Musica Ciao a tutti ragazzuoli qua è Luli Bentornati sul mio canale con questo nuovo video Come potete notare subito dalla schermata siamo online in multiplayer ragazzi su breach Uccisione confermata Stiamo usando corazza cinetica perché devo fare le ultime 6 kill con corazza cinetica per sbloccare il castetto custom E dopo in automatica ci sbloccherà anche il corpo custom Diciamo che questo video non ha nessun obiettivo, non è nessuna serie Però diciamo che è una preparazione alla serie del road to corpo hero diciamo di ogni specialista Ho prestigiato, sono prestigio 2 livello 5 se non mi sbaglio E ho messo appunto uccisione confermata perché su uccisione confermata raga si fanno i puntozzi Ecco ci hanno già aperto il culo E niente lanciamo una stunna a caso Raga probabilmente ci apriranno un po' il culetto perché Perché non gioco a code multiplayer da tantissimo Eppure voi lo sapete ci stanno aprendo il culo cazzo Ok come Raga quello era un headshot proprio Evidente E non me l'ha segnato In the casetta No raga non ce la possiamo fare Sono pure il primo cioè Proprio una lobby scandalosa Stiamo usando l'HVK signori perché è diventato qualcosa di davvero devastante Se solo riuscissi a fare una kill Grazie Oddio La classe è HVK con estrazione rapida e calcio Perché appunto raga ho appena prestigiato a prestigio 2 E non abbiamo ancora tutti gli accessori né tutte le armi Quindi quantomeno riusciamo Vediamo se riusciamo a fare appunto una partitina easy Mist 1 Cazzo lo sapevo Questa granata la odio inutile Esplodi Ok nessuno Mi direi andiamo di là che Ecco qua Adesso mi inculano me lo sento Me lo sento Qua sento spari Ok Lo sapevo che arrivava raga L'ho visto sul radar Cazzo non ho i caricatori rapidi Porco 2 Non ho i caricatori neanche rapidi Perché appunto ve lo ripeto per la centesima volta Ho appena prestigiato E le classi sono andate tutta tuttane No raga questo popo Dopo di questa Ma cosa Qua sento Ok Io lo so che arrivate da qua stronzi Lo so che arrivate da qua stronzi Dai che adesso attiviamo un coraggio cinetica Ci togliamo No raga Non potete capire cosa è successo in questo istante Ho attivato il pannello I perk che sto usando sono Post bruciatore Che da quando l'ho messo Devo dire che mi trovo davvero bene Perché appunto io gioco molto di salto Così di scivolate E niente Ok tu sei con me Stronzo Ok Piastrina mia Thank you Qua No l'avevo visto dopo Cazzo Che partita di merda Cerchiamo di portarcela Ugualmente a casa Perché se no raga davvero Che merda Intanto rombo di tuone Non si capisce proprio un cazzo Tu lo seghi Lo seghi Lo seghi L'hai segato Sì l'ha segato Intanto ovviamente Cod Intanto che tu punti Un altro nemico Che lo miri Ti fanno fuori l'altro Pagolo non m'ha visto Morto Ok No dai Non è possibile Cerchiamo di andare Ugualmente sul pod Comunque Spero non vi diano fastidio Le sclerate Ma Regà Non ci posso fare niente Cod Eh A questi effetti Sul di lui Dai Non ci credo Tutti che one shot Ma che armi avete Voglio Ma tu mi hai rotto Il cazzo Inventi Inventi in the hill Popo Comunque regà Penso di non averne fatto Neanche una kill con Ok Eccola L'ho chiamata Con corazza cinetica No No Non ci credo Non ci credo Popo Un wall run Andato a troie Ok 14 17 Un negativo Assai Pesante Ah ma lì c'è il Cerberus Allora Tra zio Sarà di qua Eccoli che sono spawnati No regà E' impossibile Volevo Spontrapparli Ma Arriveranno di qua Cos'è sta cosa Regà Oddio No no Guardiamolo Cos'è Grande robo di tono A fare lo Spontrap Ma mi stuno sempre Ma sono proprio Incoglionito No regà Ci tiro delle smirate Assurde Cioè E' allucinante Questa cosa Non è possibile Intanto guardate Quanto è bella La mimetica Sole Sull'HVK Qualcosa di illegale Con i riflessi Alla luce Fa veramente paura Regà No regà Avete visto Cosa ho appena fatto Esci O no No regà Dai Non è possibile Sembra fatta Sembra che lo fanno apposta Lo fanno apposta 15-20 Negativissimo Cerchiamo di andarlo Da recuperare almeno No Tanto piastrine Qua mi segano Qua mi segano Qua mi segano Qua mi segano Torniamo su Uav Da che andiamo in serie E' finito 17-20 Regà Un brutto risultato Però Fa niente Ve l'ho detto appunto Prima Che E' un po' difficile Dopo aver giocato Meno di un mese Però dico Quasi un mese Con i bot E appunto Non è Abbastanza Easy Come credevo Comunque era la seconda partita del giorno E niente Spero vi sia piaciuto lo stesso Questo video In tal caso Lasciate un bel like E anche un commento E condividete il video Ovunque vogliate Qui da Luli E' tutto Ve se ama Un bacione Bella raga Ciao